non per 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 l'italia in quebec zero papa germany 109 for you 59 80 no no eight zero could you repeat my report over 109 109 thanks and good luck ok 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 questo è un rapporto signore che è l'amico ecco lui mi abbatte sempre del 5 ma lui mi accorto in questo caso a dire per dire in maniera riportata perché lui ha più fattato il rapporto ma ha detto si sentiva 6-0 ciao Gianni oh ciao senti un po' come chiamo io Gianni saluto al tuo pubblico siamo live e a voi vai opera in due ci stanno seguendo dai che stanno crescendo signori condividete fateci conoscere non deve andare prossimamente alla rai quindi deve essere famoso ma l'italia come casino papa germany ecco giù copi Italy, Quebec, Zero, Papa, Germany ok, Italy, Quebec, Zero, Papa, Germany 5, 9, 8, 1 ok ecco giù avete fatto studiare molto ecco giù avete visto il mio numero, più tempo però probabilmente è molto brutta, provate ancora un tempo per il mio riporto non ho visto il mio rapporto, solo il mio numero il mio numero di gioco roger 15, grazie il 5 e 9 qui è? il 9 è il rapporto, cioè adesso il tipo di segnale 5 è il massimo, il 9 è il massimo il 9 sarebbe il segnale che i termini faccio lo spettacolo, i testi di segnale ma perché dici gemini non golf? l'avete insegnato di golf? a mo' dici gemini attento perchè la pratica dice corinca e digitale se faccio caso io faccio vedere le antenne a un albero al porto mi ricordo dove ci sono grazie grazie salutate il vostro pubblico si si anche loro siamo in diretta su facebook salutate il vostro audience ciao 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 Grazie a tutti. questo è Gianni che prova a operare e sta facendo anche un po' di training alle nuove leve Sergio ovviamente non è tra i nuovi ma è arrivato la volta se si volete contattare questa è la frequenza condividete signori condividete a 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